ben trovati a tutti gli amici della musica questo video vuole essere una breve introduzione al concerto list e le tre corone della lingua italiana dante petrarca boccaccio che sarà trasmesso sul canale youtube di anovara e di amici musica cocito in ciascuna parte del concerto avremo modo di sentire recitare i brani letterari che hanno ispirato il grande musicista ungherese in questa prima parte totentanz di list viene accostato al decameron di giovanni boccaccio tale particolare accostamento trova ragione in una serie di indizi che emergono dalla biografia di tre artisti list boccaccio e buffa il macco list nel gennaio del 1839 si trova a pisa e a modo di vedere nel campo santo di piazza dei miracoli il potente ciclo di affreschi che descrivono il trionfo della morte il giudizio universale e l'inferno ognuno di questi grandi affreschi comprende varie scene in cui vengono descritti ad esempio la lotta tra angeli e diavoli le trombe del giudizio universale l'incontro tra i vivi e i morti la morte stessa rappresentata da una donna in volo che brandisce un enorme falce e pare ghermire un gruppo di dieci giovani tra gli elementi ricordati spicca il gruppo di dieci giovani che pare corrispondere all'allegra brigata cioè i dieci personaggi che nel decameron di boccaccio sono i narratori delle novelle l'autore di questo ciclo di affreschi è buon amico di martino detto buffalmacco ed è lo stesso buffalmacco che boccaccio inserisce in quattro novelle del decameron quale indimenticabile personaggio autore di scherzi rivolti all'ingenuo calandrino ispirandosi alle varie scene di questo ciclo di affreschi liszt compone il suo totentanz nella forma di tema e variazioni scegliendo come tema la melodia medievale della sequenza dies ire la melodia medievale del dies ire era stata utilizzata già da hector berlio nel sogno di una notte di sabba movimento finale della sua sinfonia fantastica che liszt diciannovenne ebbe modo di ascoltare traendone una fortissima emozione lunga fu l'elaborazione di totentanz che vide nel corso degli anni varie versioni la più celebre oggi è quella per pianoforte orchestra la versione per pianoforte solo è del 1865 e fu l'ultima realizzata da list quest'ultima versione è la versione che potremo ascoltare nel concerto la fortuna di totentanz è propriamente novecentesca tale brano entrò a far parte del repertorio di grandi interpreti soltanto dopo che arturo benedetti michelangeli lo propose in concerto grazie